Da alcuni mesi si era reso responsabile di minacce, vessazioni e aggressioni nei confronti degli anziani genitori al fine di estorcere denaro. Ieri all'ennesima richiesta seguita da rifiuto e dalla successiva aggressione la denuncia del padre alla polizia da cui l'arresto. In manette un barlettano 26enne tossicodipendente arrestato in flagranza di reato di estorsione aggravata e continuata nonché di violazione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ad operare l'arresto gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del locale commiserato diretto dal dottor Luciano Di Prisco. Secondo quanto si è preso il giovane arrestato era diventato un vero e proprio incubo per i genitori, questi ultimi che vivono della sola pensione. Non essendo in grado di ottemperare le continue richieste economiche del figlio in seguito all'ennesima aggressione prima verbale poi fisica, si sono rivolti alle forze dell'ordine che hanno proceduto al suo arresto. E ad opera del locale commiserato di pubblica sicurezza di Barletta e manette a distanza di poche ore anche il 28enne Francesco Carbonara di San Ferdinando di Puglia, il giovane si è reso responsabile dei reati di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e minaccia pubblico ufficiale. Il 28enne uscito in mattinata dal carcere di Foggia qualche ora dopo ha accompagnato la propria convivente in ospedale. Qui dopo un acceso di verbio con il personale sanitario ha aggredito i medici e successivamente appropriatosi di un estintore lo ha scagliato contro una finestra sfondandole facendolo cadere dal terzo piano. Solo per puro caso nessuno è rimasto ferito dalla caduta del pesante apparecchio. Carbonara non contento ha poi minacciato gli agenti della volante mentre lo trasportavano presso il carcere di Trani.